Lavorare sodo per uscire dal momento no, questa è la soluzione di Mazzarri per dare a Napoli quella forza mentale per rialzarsi e tornare a far sentir la propria voce in questo campionato. Ci sono voluti 33 anni per cucire quello scudetto sul petto e non devono bastare 5 mesi per scucirlo e consegnarlo a qualcun altro. In Napoli deve lavorare con abnegazione per uscire dal momento negativo ritrovando nella difesa un'arma in più. Finora l'Artero Guardia parte una pela più perforata tra le big della Serie A. Se contro l'Atalanta sembrava aver ritrovato un equilibrio, il Castello si è sciolto come neve al sole contro Real Madrid e Inter con 7 gol subiti in due partite. Gol che fanno emergere non solo gli errori dei singoli ma anche quelli complessivi di posizionamento e lo staff sta lavorando per rimediare a ciò. Mazzarri vuol lavorare come il suo predecessore, con il Napoli capace di difendersi alzandosi, correndo in avanti, aggredendo gli avversari nella propria metà campo. Intanto i tifosi del Napoli sono in apprezzione anche per comprendere le dinamiche relative ai rinnovi o ai possibili trasferimenti di alcuni calciatori come Simen e Kvara. Ed è proprio quest'ultimo a parlare ad un'emittente radiofonica rassicurando i tifosi azzurri. Real Madrid in questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%, così l'attaccante georgiano ha subito allontanato le voci di mercato, almeno per il momento. Ma ciò non toglie che a Lugio tutto potrà cambiare, ma è inutile guardare così lontano.